Il Tenerario dei Santi Misteri per girare e proseguire per Via Nello Rosselli dove sarà completata tutta la strada fino ad aggiungere su Corso Cotugno per proseguire per Piazza Matteotti, Corso Gramsci per scendere per Corso Carafa fino ad aggiungere a Piazza Bovio proseguire per Corso Cavor, Piazza Dante, Corso Giovanni Iatta, Via Cattedrale sosta innanzi al Purgatorio per quanto riguarda il Cristo al Calvario o Gesù Porta Croce proseguo per Via Cattedrale senza aggiungere all'algo cattedrale dove tutte le statue sosteranno per la benedizione e poi si proseguirà per raggiungere nella Chiesa del Carmelo.